La pioggia incessante e fastidiosa di questi giorni non ha fermato la protesta che la Lega Nord ha iscenato davanti ad una quarantina di carceri del nord Italia. A Lodi i militanti si sono ritrovati in via Cagnola dove assiede la casa circondariale della città. Qui hanno ribadito la loro ferma opposizione nei confronti di ogni normativa che conduca alla scarcerazione di tanti delinquenti minori. Per risolvere il problema dell'affollamento delle carceri italiane altre secondo la Lega devono essere le strade da battere. Il pericolo infatti di aprire le porte a troppe persone che in questo momento di crisi generalizzata del sistema produttivo finiscano per ricadere nella delinquenza in assenza di altre prospettive concrete. Di qui la protesta della Lega davanti alle carceri del nord è una manifestazione simbolica che si è aggiunta all'azione parlamentare svolta in queste settimane a Roma.